Per molti anni felici, a bordo delle mie barche ho visto Alde Tramonti, ricordo tutto. Oggi, con nostalgia, vivi io la mia garoppata e bella vita di Barcaiola. Finché un giorno, a forza di discutere col padre, io mi sono inginocchiato davanti a lui e ho detto papà, c'è quella bottiglia sul tavolo, se tu vuoi me la rompi sulla testa, però ricordati io voglio fare le barche, farò le barche come voglio io. Posso dire che ho anche imparato a fare le barche navigando, forse di più in 20 giorni di mare che non in un anno in cantiere. Agosto 1962, quando è nata l'Aqualanga. Il sole nutre il seme della vita. Ed è proprio così. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti